Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale Moni Beauty Bio, benvenuti in un nuovo vlog. Mi vedete con i capelli bagnati perché ho appena fatto shampoo e doccia. Oggi è venerdì 13 maggio e sto vloggando. Alcune persone mi hanno chiesto più vlog perché mi piacciono e quindi ho deciso di accontentarvi. Ma devo dire che piace tanto anche a me girare i vlog. Quindi mi stai staccando una mano. E tra l'altro vi porterò anche con me perché questo fine settimana io e Gianluca andremo fuori. Dobbiamo... Basta! E basta! E basta! Questa settimana io e Gianluca andiamo fuori perché siccome dobbiamo andare all'Ikea, perché dobbiamo fare alcune compere, tra cui anche cercare un mobile per la cucina, sperando di trovarlo, cioè sperando di trovarlo come piace a noi, come serve a noi. Però l'Ikea dista parecchio da qua, dove sto io, sono circa due ore e mezza. E' una sfaticata insomma andare e tornare nello stesso giorno. Con Gianluca abbiamo pensato di restare direttamente una notte fuori. E andremo quindi dopo l'Ikea a Sorrento, una località che io non ho mai visto. Gianluca ci è stato diverse volte e mi ha detto dai facciamo così, dato che siamo in zona, perché andiamo all'Ikea di Salerno, poi ti porto a Sorrento così ti faccio vedere anche la località. E niente, facciamo un weekend fuori. Spero insomma che questa tipologia di vlog vi piaccia, che vi faccia piacere insomma che vi porti con me. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, perché per me è sempre molto importante anche la vostra opinione, sapere cosa ne pensate, sapere se vi piacciono queste tipologie di video. Allora, rieccomi, allora io ho asciugato i capelli così, molto velocemente con il phon, anzi li ho lasciati un po' asciugare all'aria, perché c'è un caldo tremendo, non so da voi, ma qua è arrivato un caldo assurdo. Poi li asciugate un po' con il phon, ma sono in condizioni pietose, nessuna piega, nulla di nulla, ma casomai dopo passo un po' la piastra, vediamo. Volevo farvi vedere la parte della cucina dove andremo a mettere il mobile. Ultimamente ci siamo resi conto che lo spazio che abbiamo a disposizione in cucina, la parte del mobile che avevamo acquistato cinque anni fa ormai, è troppo poco. Abbiamo bisogno anche di un piano d'appoggio in più per lavorare, perché sui piani che abbiamo c'è la macchinetta per fare il caffè, il microonde e poi non c'è più spazio. E quindi alla fine ci siamo decisi di prendere un altro mobile. Inizialmente, all'inizio, quando avevamo acquistato tutti i mobili per la casa, avevamo detto, no, ma secondo noi va bene così. Poi il frigorifero non era nemmeno qua, ma era qua, da questa parte. E il tavolo invece era di là. Così abbiamo detto, lasciamo la cucina bella spaziosa, con un, diciamo, più spazio per poterci muovere. Però poi alla fine ci siamo resi conto che lo spazio che ci serve non è tanto quello di muoversi in cucina, fare chissà che cosa, ma è proprio lo spazio all'interno dei mobili per poter contenere tutti gli accessori della cucina, pentole, insomma. E quindi abbiamo deciso di comprare un mobile in più, non per acquistare roba, accessori da mettere all'interno, ma per poter proprio sistemare bene tutto ciò che abbiamo nella parte del mobile della cucina che già abbiamo acquistato, no? E quindi abbiamo deciso di fare così. Abbiamo spostato il frigorifero da questo lato. Il tavolo lo metteremo più centrale, comunque lo spazio c'è. E quindi qua poi andrò a mettere un mobile. Vedete che ci sono ancora fili appesi che dobbiamo togliere. E poi penso che lì, in quell'angolo lì, sistemerò una bella petrina per poter mettere appunto le cose. E niente, e questo è quanto. Dobbiamo fare diversi lavoretti in casa. Ci sono diverse cosettine ancora da fare. Se vi interessa, ovviamente fatemelo sapere che io continuerò comunque a vloggare. Adesso però vado a prendere la valigia perché devo anche sistemare il beauty per vedere cosa devo portare, anche se è solamente per una notte e quindi non devo portare chissà che cosa. Questi sono i prodotti invece che porterò per quanto riguarda la parte skin care. Io ho sempre più prodotti per la skin care che abiti vestiti in valigia. Ma comunque adesso ve li faccio vedere, ve li mostro. Sono prodotti che già conoscete perché ve ne ho già parlato. Come struccante porto il bifasico di Puro Biocosmetics. Mi piace molto perché strucca qualsiasi make-up, anche quelli più resistenti. Come detergente invece porto la mousse della linea Revolution di Bnetwork, che è bellissima. Strucca anche molto molto bene. Mi piace la mousse perché una volta che è applicata sul viso forma una sorta di cremina, non si smonta ed è veramente qualcosa di eccezionale. Come tonico, il mio tonico preferito del periodo, quello di Cosme Too. Mentre come contornocchi porto Salve Regina di Parentesi Bio. Siero Gel Puro 3 all'acido ialuronico, sempre di Bnetwork. Come di Bnetwork porto anche la crema Bio, sempre della linea Revolution, come la mousse. Stupenda questa crema, mi sta piacendo tantissimo. Poi mi porto il mio solito pattino in cottone. Il deodorante. Sto utilizzando questo Miadeo Vapo, mi sto trovando molto bene. Poi ve ne parlerò meglio in un video. Ovviamente Mist Miacaramisse, lei sempre in borsetta con me non può mancare. Crema Mani di Bema. Come prodotto invece per le labbra porto lui, il balsamo labranutriente di Eterio. E ovviamente immancabile la mia protezione solare 50 di Mulac. Come shampoo penso che prenderò lo shampoo solido di Parentesi Bio, che è questo qua. Noi abbiamo una scorta a casa di shampoo solido di Parentesi Bio nella versione purificante e volumizzante, perché a Gianluca piace tantissimo. Praticamente lui usa solo questo e ve lo mostro. I solidi di Parentesi Bio a me piacciono davvero tantissimo. Oltretutto sono anche molto pratici da portare in viaggio, perché vedete, io porto già una sfilza di prodotti sempre in full size, non porto mai mini size o con pioncini. Quindi almeno per la parte air care vado ad occupare meno spazio. Questo è il solido di Parentesi Bio, ve ne ho parlato in un video dedicato ai prodotti della linea Parentesi Bio. Lo trovo davvero eccezionale. È molto pratico anche da utilizzare. Questa semisfera si gesisce molto facilmente anche. Come balsamo, invece, porto il mio preferito del periodo da un sacco di tempo, veramente lo ripuesto sempre, ma forse lo sapete già, il balsamo districante di Puro Bio Cosmetics. Mi stavo dimenticando di prendere la mia faccetta per la skin care. Allora, per la parte make up ho selezionato pochissimi prodotti giusto per creare un make up davvero super semplice. Allora, ho preso la BB cream Zulim di Puro Bio Cosmetics. Ho preso la polvere di riso di Astra. Come blush non ho preso l'illuminante. Utilizzo questo Petal Dry di Mesauda, che praticamente è un blush cotto. Adesso ve lo faccio vedere. A me piace davvero tantissimo questo. Vedete? È fatto così, con questo colore rosa. Qua sembra molto più sparaflesciato, ma si sfuma abbastanza bene sulle guance. E poi risulta davvero molto molto leggero. Ovviamente è stratificabile. Se volete mettere un po' più di colore lo potete tranquillamente stratificare. Ma è anche super luminoso. Quindi due in uno blush illuminante. Poi il mio correttore Mesauda, il Pro Light di Mesauda. Il mio ombretto di Elf, ve ne ho già parlato. Per le sopracciglia queste due referenze di Astra. La Gisha Brows è il mascara infolzante per sopracciglia. Poi il Plumper di Vitamol. Come mascara ovviamente il Black to Black. E invece per le labbra porto solo questa. Perché tanto poi sopra applico il Plumper di Astra. Ed è la Lip Pencil. Nella colorazione. Tra l'altro queste matite mi stanno piacendo davvero tantissimo. 04. Della linea Pure Beauty di Astra. Durano davvero tantissimo. Hanno una mina molto morbida. Però riuscite comunque a contornare bene le labbra. Bellissime. Ho preso anche altre due colorazioni perché mi piacciono tantissimo. Poi un pennellino per stendere il blush. E le mie due spugnette. Buongiorno. Sabato 14 sono le 8.35. Noi siamo in viaggio già da circa un'oretta. Direzione Ikea. Noni siamo in viaggio già da circa un'oretta. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ti fai un bagnetto? Al mare? Un bagnetto? 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 Grazie a tutti 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 Luca Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo via da qui Grazie a tutti 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 Grazie a tutti